Buongiorno, buon sabato mattina, soprattutto ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con l'informazione, la rassegna stampa, i giornali che troviamo in edicole e le notizie dentro loro contenute. Naturalmente sono già tutti pronti, qui sul nostro touchscreen e quindi siamo in diretta, come sempre. Ma prima guardiamo il Santo del Giorno, quindi l'almanaco e poi le previsioni del tempo prima di affrontare i giornali. Allora, il Santo del Giorno, oggi sabato 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole è sorto alle 5.47 e tramonterà alle 20.42. Le previsioni del tempo, partiamo da quelle di oggi, come vedete la simbologia della cartina della protezione civile Marche, dice che sarà un cielo poco nuvoloso, però nel corso della mattinata ci saranno maggiori addensamenti anche sui rilievi appenninici e le piogge. Faranno la loro comparsa però proprio nelle zone interne, la costa perlomeno dovrebbe essere risparmiata. Per domani invece gli addensamenti si intensificano, oltre che sulle zone interne anche sulla costa, come vedete compare la pioggia, rovesci temporali sparsi più insistenti nelle zone interne, però potranno interessare anche in serata la costa. Vediamo l'inizio di settimana, della settimana prossima, lunedì 25 luglio, il cielo è inizialmente nuvoloso con ampie schiarite però nel corso del pomeriggio, quindi si parte un po' così e poi migliora nel corso della giornata. Anche le precipitazioni sono presenti solo nella prima parte della giornata e soprattutto però nella parte del settore interno e meridionale della regione Marche. Allora, i giornali, eccoli qui pronti, partiamo subito con, vi porto nelle pagine del resto del Carlino, nell'inserto di Pesero, vediamo la pagina di apertura che contiene un po' di notizie, alcune più buone, altre meno, però questa è sicuramente quella più buona e la diamo subito. Allora, in testa di pagina arriva un angelo per le due persone che vivono da diverso tempo in un'auto all'interno del parcheggio della caserma di Fano, c'è un imprenditore disposto a pagare un affitto. Al centro però, fotonotizia, la Benelli è fallita, è stata dichiarata fallita, ma dicono appunto risorgeremo e poi buone abitudini, quella di mangiare lo street food e c'è uno street food anche di qualità nelle marche. Allora, andiamo subito nella pagina che riporta questa buona notizia. Un imprenditore romagnolo aiuta la coppia di Fano, affitto gratis per due anni, vivono da otto mesi nella loro auto. Lui dice so cos'è la fame, pago io la casa. Insomma, quindi tutta la storia che ormai sapete dal 2009, insomma l'attività che va male, la casa è andata all'asta e quindi insomma dice nelle pagine del resto del Callino, stanotte non sono riuscito a dormire al pensiero di quella famiglia che vive in macchina e quindi li vuole aiutare. Bene, questa era la buona notizia, ma anche la Benelli, insomma questa azienda del comparto motoristico, non solo della provincia ma di tutto il territorio nazionale, un'icona la Benelli a livello mondiale quando si parla di moto, quindi percorso un po' tutta la storia, era finita in mani cinesi e insomma c'è questo fallimento, reazione immediata però dell'azienda che dice faremo appello perché i debiti sono già stati pagati, versati 120 mila euro e quindi insomma questo bel esempio di industria italiana che però insomma è gestito da un altro management però insomma sicuramente è un nome e un'icona che va salvaguardato, speriamo che insomma tutto vada per il meglio anche per le maestranze che ci lavorano. Estate bollente, giro di vite del prefetto, migliora la vigilanza nei locali, un responsabile della sicurezza, tanto è stato fatto in questo protocollo firmato appunto in prefettura per la sicurezza di chi frequenta i locali da ballo soprattutto e anche gli eventi molto affollati. Andiamo nella pagina di Fano del resto del Carlino, ve la ricorderete tutti sicuramente, quella tragedia che vide ahimè la morte del piccolo Edoardo Serafini, la colpa non è del trattore, parlano i legali del conducente del mezzo che offrono la loro versione. Vedete nella foto del resto del Carlino uno scatto di quei tragici momenti e poi sarà Donciotti, nuovo sindaco del paese dei Balocchi e quindi insomma anche qui un paladino della legalità sarà il sindaco del paese dei Balocchi e poi nuove asfaltature in zona Porta Maggiore, 20 giorni di passione, da lì insomma si partirà per asfaltare un tratto importante di nazionale che attraversa la città di Fano, appunto la statale 16. Panico in alto mare, sempre durante l'estate si riportano questi episodi, questo è andato bene, Panico in alto mare perché è un toscano di 61 anni, un turista, è stato salvato dal bagnino e quindi ora deve la vita a questo bagnino Roberto Renzoni di 58 anni insomma che ha fatto quello che è il suo lavoro ma sicuramente da parte dell'anziano turista ci sarà ampio riconoscimento per questo. Comune, biblioteca e Pinacoteca, addio ai tetti Colabrodo, ha avviato un insomma un bel risenamento conservativo dal costo di 510 mila euro per i primi tre edifici pubblici di grande pregio, di grande importanza non solo come struttura ma anche per quello che contengono soprattutto insomma la Pinacoteca ha dei capolavori. Pagine del Corriere Adriatico ve le faccio vedere, quelle che ho scaricato questa mattina, partiamo dalla pagina di apertura del Corriere Adriatico, si parla appunto anche qui, sorpresa, fallita la Benelli QJ, i cinesi annunciano il ricorso, credito contestato e poi fotonotizia per un evento sottomonte, assalto alla spiaggia e poi a Senigallia, al via presentato, il Summer Jamboree. Ecco l'evento riportato in fotonotizia, eccolo qua, siamo a Pesaro, sottomonte, 48 ore blindate perché ci sono tre eventi, tre cremessi di grande richiamo, si parte con Sons of Beach, Adriatic Game e domani la Dance Non Stop per lo Sky Festival, avessero messo un nome in italiano, abbiamo una lingua bellissima però insomma va bene. La follia dell'estate, dilagata anche qui da noi, follia Pokémon, marito e moglie sfidano la piazza vietata, si fanno questo selfie in piazza, è un app, un delirio perché ha contagiato oltre che mezzo mondo anche l'Italia, insomma la rincorsa dei Pokémon in parecchi sanno di che cosa sto parlando. Anche qui riportata la vicenda della Benelli per il management, dicono, è una sorpresa, è stato nominato il curatore della storica azienda che però annuncia il ricorso in appello. Nel giardino coltiva marijuana, le piante sono abbastanza alte, si vedono, siamo nella Psella, pianteggione però protetta dai rovi ma i carabinieri si fanno largo con il macete e le scovano. Vedete qui le piante, eccole qua, questo è il tenente dei carabinieri di Pesaro, vedete insomma non è sicuramente una persona bassa, guardate quanto sono alte le piante, insomma, sequestrate appunto alla Psella. Andiamo a Fano con le pagine del Corriere Adriatico, anche qui una storia di difficoltà, senza acqua da un mese c'è una persona, insomma, dice operiamo per evitare casi come questo, Marina Barnesi, l'assessore che però allarga le braccia perché dice a volte la burocrazia è un ostacolo, ma un aiuto, non lo neghiamo mai e qui giustamente una storia di difficoltà economica, bollette non pagate e insomma gli viene sospesa la fornitura idrica, ma sicuramente si troverà una soluzione anche per questo aspetto della società, insomma, questa persona è in difficoltà. Appello di 5 Stelle, siamo sul fronte della sanità, partecipiamo al referendum, i 5 Stelle si appellano ai fanesi per la data dell'11 settembre, con settembre con tempi del dibattito compresi. Noah è ritornata a Fano dopo 15 anni, ha tenuto il concerto di apertura del Fano Jazz by the Sea e ha incantato subito con la sua voce il pubblico presente. Shalom, cantante di origine israeliana, dice torno a Fano dopo 7 anni, scusate non 15, coinvolgente esibizione della cantante che intona con il cuore la vita è bella. Però anche qui ci sono difficoltà per i prossimi giorni, appunto per l'asfaltatura dell'Adriatica, appunto anche qui riportate nelle pagine del Corriere Adriatico, in vista caos e incolonamenti, sicuramente ci sarà da prenderci le misure, ma i lavori anche di notte costavano troppo, si faranno, ma si faranno soltanto in un pezzetto dove l'intervento sarà ancora più incisivo e allora lì ci saranno i lavori di notte per non penalizzare molto la circolazione, perché parliamo della zona del Ponte Storto, intanto per darvi un'idea quando si opererà lì ci sarà il cantiere aperto di notte. Siamo nella Val Cesano, la pagina della Val Cesano, una pagina che parla di archeologia, si cerca un borgo di età romana, avviati nuovi scavi anche con il georadar e quindi se viene trovata sicuramente, vedete qui il sito dove vengono portati avanti gli scavi. Ancora sempre dalla Val Cesano, buone notizie per le persone che abitano a Orciano o che gravitavano in quella strada chiusa per la voragine, in prefettura sempre ieri è stato siglato un accordo tra comune, provincia, società, molti servizi per reperire i fondi per risolvere il problema della viabilità in quel punto e quindi vedete in questa foto la sigla dell'accordo. Andiamo a Senigallia, la città della spiaggia di Velluto che come vi ho detto si appresta fra pochi giorni a vivere l'evento Clou dell'estate che ormai da 15 anni, ecco così erano i 15 anni che avevo in mente, contraddistingue l'estate senegalese, appunto il Sam Jambori, però si parla di un brutto incidente, ho corso a un ragazzo, un ragazzo che gioca a calcio, Michele, la sfida più difficile perché in un incidente, un brutto incidente stradale a bordo della sua moto, ha perso un braccio nel volo, non si sa, la dinamica ancora non si capisce bene, forse un guardrail, insomma un dramma per questo ragazzo di 21 anni che è in prognosi riservata ed è ancora in pericolo di vita. L'Arto è stato riattaccato, è stato un intervento molto difficile, però insomma bisogna aspettare, vedere nelle prossime ore come ci sarà, un grosso in bocca al lupo, un grosso in bocca al lupo a Michele per il suo futuro. Rimaniamo, l'ultima pagina che vi faccio vedere sul Corriere Adriatico, appunto quella di Senigallia, anche qui Movida, Movida però insomma un po' così con qualche difficoltà perché Lampioni ha effetto discoteca, ci sono degli esposti ai vigili urbani per i vetri colorati messi all'interno, poi rimossi, ma ci sono locali che sparano anche i fumogeni e a volte questi salgono fino alle abitazioni. Il sindaco è stato diffidato, lotta anche ai decibel e altri ostacoli per chi vuole trascorrere le ore notturne in tranquillità. Insomma è una questione questa che attraversa un po' tutte le città che hanno a che fare col mare e col turismo durante il periodo estivo. Poco male, durano poco questi episodi, quindi un po' di pazienza e un po' di comprensione da parte di tutti. Bene, grazie e termina qui la rassegna stampa di oggi, di sabato, o che giornali torna naturalmente lunedì mattina alle 7.30 puntualmente, non mi rimane altro che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione e insomma naturalmente buon sabato e buona domenica a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.